Ciao a tutti, io sono Andrea e partecipo al premio Chiara Giovani con il mio racconto che si chiama San Michele aveva un gallo. Studio scienze umanistiche per la comunicazione all'Università Statale di Milano e intanto scrivo per un giornale di stampa locale che si chiama il notiziario. Spero vi piaccia il mio racconto e a presto.